Stefano Percassi, quali le novità della campagna abbonamenti 2014-2015? Prima di tutto un nome molto aggressivo, non puoi più nasconderti. In che senso? Uno, vogliamo che lo stadio si riempia e per fare questo, caro tifoso, non ti puoi più nascondere. Abbiamo delle tariffe fantastiche, abbiamo messo un 20% di sconto su tutte le tariffe nuove, rinnovate, su tutti. E in più regaliamo questo fantastico giubino a tutti gli abbonati, è un giubino idrorepellente con il suo cappuccio che si può staccare, la tasca per il telefonino interno, che ha questa macchia di colore che ci permetterà di vedere, quello che sogniamo, di vedere una grande curva tutta di questo colore, eccetera, eccetera, tutto lo stadio pieno. Quindi queste sono le due grandi cose. Riconfermiamo poi i trasporti, quindi a carico di Atalanta, quindi puoi venire gratuitamente e poi lo sconto per la spesa, il pagamento di razionato, lo sconto al negozio, sono riconfermati. Però le tre grandi cose sono meno 20% di sconto su tutte le tariffe e il nostro giubino. Ci sono le condizioni per vedere le famiglie allo stadio? Direi che abbiamo, dopo 3-4 anni di campagna, abbiamo trovato un po' la quadra anche per rispettare un po' anche quelle che sono le richieste di tutti e soprattutto vedere realizzato questo sarebbe vero lo stadio pieno. Ciao!